Siamo qui con Edoardo Lupi al rientro dalla prima giornata di regata della seconda tappa Odissell in Sirius Magistretta 2 Scarlino, Edo hai concluso alla grande questa prima giornata, raccontacela Per noi è una tappa importantissima perché dopo due anni di esperienza in questa classe è la prima vittoria vera in campionato quindi siamo tutti contentissimi, euforici e vediamo domani di andare ugualmente bene Bene, grazie, bocca al lupo